brescia fornaci un bellissimo appartamento al secondo e l'ultimo piano con ascensore molto luminoso con una bella vista qua entriamo portacino blindato tenuto benissimo c'è una bella zona cucina la bella zona cucina dove ci sta un tavolo con quattro sedie estensibile 6 open space sulla zona soggiorno con un camino a norma che scalda benissimo hanno fatto i colori ultima moda calorifo in ghisa aria condizionata in tutte le stanze quindi avete 3 split dal soggiorno si esce sul balcone che è un terrazzo grandissimo c'era magdalena bellissimo anche grande grandissimo grandissimo non terrazzo bellissimo si porta fuori a mangiare posizione tranquilla ed è vicinissima la città poi adesso vi faccio vedere zona notte perché vero bello di legno una camera singola volendo ci stanno anche i due letti comunque ci stanno volendo due letti singoli ho letto castello nella finestra questo è lo stucco stile ruggine bellissimo fatto a mano se non ti piace o cambi bagno impeccabile a roba con una bella finestra c'è uno spazio grande per una scarpiera una vasca doccia bellissima termo arredo poi camera matrimoniale grande veramente grandissima anche questa l'uscita sul terrazzone scusa perché la terrazza sarà lungo 10 metri aria condizionata anche qui perché ci sta comodamente letto matrimoniale con un grande armadio muro perché se vieni a vederlo ci sta davvero un sei anche anche sette bagno l'altra camera uno due letti e questa la zona giorno non dovete pretendere il soggiorno di sei metri per sette però c'è un bello spazio cucina ci sta un divano due barra tre posti la libreria quel che vuoi e sto barcone stupendo barcone terrazzo riscaldamento autonomo caldaia esterna poi c'è anche il resto la cantina il garage e tutto ma è vero venite a vederlo il prezzo è ottimo telefonate subito 0 30 2 7 9 1 7 6 5 agenti immobiliari riuniti www.agenti immobiliari riuniti 2 il numero punto it dal 1980 vendiamo casa brescia viene a vederlo è un affare